Sfumato Ducarà, le attenzioni rossonere sono per Abu Diop, senegalese classe 93 del Toro, l'anno scorso metà stagione con la Juve Stabia, l'altra Crotone sempre in Serie B. Continua a piacere Ettore Mendicino per rinforzare un reparto che dopo l'era di Leonardo Pavoletti ha accusato l'assenza di un attaccante prolifico. Gli affari si potrebbero concludere anche se la società rossonera è rimasta spiazzata dall'improvviso dietro fronte di Ducarà, prima scelta, a un passo dalla firma e poi a Litz di Cellino in Inghilterra. Calciomercato insomma tortuoso, quello virtussino almeno nei primi passi. Comunque il DS Luca Leone che a Milano è in procinto di rinnovare il prestito dell'attaccante Leonardo Gatto con l'Atalanta, altra stagione in cadetteria per l'ex Pisa che quest'anno punta ad una maglia da titolare. Volto nuovo l'esterno Andrea Conti, indirittura d'arrivo, altra ipotesi, quella del centrocampista classe 93 Davide Agazzi di proprietà dell'Atalanta, reduce dall'esperienza a Savona. La tifoseria aspetta ancora paziente confidandone l'intuito che ha permesso in due anni di vivere stagioni memorabili, ma si sa che quest'anno sbagliare non si può. Grazie.